guarda eh, dai dai ora così ispira apro vai vai ancora così retiro persa ancora giro ancora quattro tre due solo dentro ancora ora cambia ora ok vai ora ora dai forza ora dai insieme perché no ancora quattro tre due ok tozione rinno bene invidia la mano ancora quattro tre due stavo dentro e chiudo vai ora ora vai solo sinistro ancora insieme 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 con la destra e chiudo con la sinistra e chiudo insieme insieme forza 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 rimani doppio vai 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 ancora ancora ok singolo so so ancora quattro tre due cos'erano stavolta ragazze non avete l'elastico quindi sali e la gamba di terra Mary è piegata eh ancora 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 respira aiutati con la braccia e una doppio pingalo sulle gambe ok giudo respira resto seguici 8 7 6 5 4 3 2 vila ora 8 5 2 go ancora così singolo laterale dai e rimango 16 16 e hand up ok so so Quattro, tre, due, so Fallo piccolo Attenzione, sedici So, so Cambio E alzare E tallone, via Buona Facciamo doppio Doppio Dai, dai, dai Iniziamo a accelerare Ringolo Dai, dai, dai Attenzione, io in giro Abbi Vai, vai, vai Forza, forza E abri Fora Quattro Tre, ora finiamo questi due esercizi Abbi Abbi Quattro, tre, due, uno Abbi Vai Abbi Sì, l'altra Abbi ragazzo rive ora verso ora 4, 3, manigliano la nuca forza, 8 4, 3, 2, lato 8, 4, 3, manigliano 4, 4, 3, manigliano la nuca 4, 4, 3, manigliano la nuca 4, 3, manigliano la nuca Giù! Giù! Guarda! Guarda! vai fatta calciata abbiamo finito vai 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 all'occhio all'occhio sono gli ultimi 30 secondi skip ok respiro passiamo bene bene vai vai passiamo bene aprile i pesi allora qua gambe divaricate morbide addome contratti iniziamo da qui calma prendi piatto ancora mi raccomando stringi l'addome non proiettare le spalle in avanti vai vai bene ancora uguale vai vai stiamo respirando fuori l'aria inspiro fuori stiamo un po' più rapido vai proviamo a renderlo comunque profondo vai 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 ancora a mollare dai ancora 8 7 6 5 4 3 2 ok i pesi sono a destra andiamo oddio mi sono tanto a strada di destra pronti come avanti per tenerti andiamo vai 2 torna ora ora ancora ok cambio pronto mamma mia vai vai 1 2 3 4 5 6 7 8 ne mancano 16 8 7 6 5 4 4 3 2 ok va bene torniamo qui di nuovo madonna tanta ti fa più faticazione i pesi andiamo lento come prima giù giù vai ancora ti vedete adesso solo d'altra vai piccolini 8 8 7 6 5 4 3 2 e vai di là 8 7 6 5 5 4 3 2 veloci vai giù vai com'è un minuto 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 bravi, dai, 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 dai marcia molto bene, ci siamo marcia, marcia, marcia bene bene, bene, respira se volete potete anche bere allora nello spazio veramente pochissimi squat vi facciamo quasi bene se non ve la sentite potete lasciare anche i pesi nessuno vi obbliga qua quattro, mi raccomando metto sui talloni, d'accordo? vedi qui andiamo a farne sette lenti a scendere e uno per salire ok? così noi facciamo otto finiti questi otto, contrario scendo in uno, salgo in sette per otto, ok? proviamo bene e andiamo otto sette sei cinque quattro tre due su otto sette sei cinque quattro tre due su vai 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 Continuai. 4, 3, 2, contrario, jump. Vai! 4, 3, 2, contrario, jump. Con la 4. Tendere. 5, 4, 3, 2, contrario, jump. Vai, l'ultimo. E vai, singolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. che pesano i talloni ora tre due otto molleggi quattro piegati tre due ok, marcia va bene torniamo a fare quello che abbiamo fatto altro giorno due denti, vai due piano ditta ora 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 qua così bene dai che sono così passo eh ultimi ok, va bene marcia e peri ok andiamo 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 e la posso fare ok e speranza di arrivare alla fine della lezione eh pronte? stiamo qui gambe leggermente rilargate qua piegare le gambe un piena giusto cominciamo a fare un po' di dorso pronte? quattro tre due e vai ancora mi raccomando la postura le braccia ancora quattro quattro 3 2 ok piccola pausa respira mi raccomando impegnatevi fatelo bene pronte? adesso le braccia sono aperte qua ultimi dai ok va bene respira molto bene forza forza stiamo avanti un bracciatore lavora adesso ok? io comincio a caricare un po' siamo qua chiudo rematore dai lo vedo stretto ora ok cambio tutto dall'altra parte pronte? vediamo 4, 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 4, 4, 5 4, 5 5, 6, 6, 7, 8 Ancora Ok va bene L'ultimo esercizio Facile I serplici molleggi indietro Ok Facciamo Qua Andiamo vai 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 Vim vim Fora Quattro Tre Due Ok va bene Ok Oh io devo bere un attimo Bene Andiamo avanti Spalle Spaniamo par addome E Idemo Vai Dextro Vim 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 Ora Andiamo avanti Insieme, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, stringi l'atome, ginocchio morbide, rimani, quattro, tre, sospiabile, due, vai, destro, ancora, insieme, 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 ok, ok, cambio, cambio, l'altro, l'altro, sinistro, sinistro, ok, 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 allora, , ok, 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 ecco, ecco, accontemolo, iniziamo 4 3 2 e andiamo via ancora 16 4 3 2 ok va benissimo ok andiamo a terra chiudiamo mi vedete bellissime sono amici allora vediamo un po' lo metto qua così tagliamo la testa al toro e poi c'è il bene ok chiudiamo aspetta è forte aspetta 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 ah aaa wang 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 che su happy comedy Sì Mi raccomando al mento Non è la testa eh È tutto Sperta spalle Che salgono eh Ora Rimaniamo Non mollare Stringi Scora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Calma Sempre qua Cambio Non scendo eh Ancora Cambio Sei Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Due Diamo Sotto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Cambio Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Ragazzo Uncora Quattro Tre Due Cambio Deve Quattro Beba Isso Fora Quattro Tre Due Ok Bene Ascoltatemi Se l'avete qualcosa che vi dà un piccio Una cosa buona Guardate Io ho preso il tappetino E ho messo qua Al centro delle due gambe Se voi avete anche una gozza Non lo so Qualcosa con cuscino Che mettete qui a terra un attimo Ok Perché vi dico questo? Forse qualcuno già lo sa quello che andiamo a fare Niente di più di quello che avete appena fatto Mi aiuta la musica Facciamo finire solo in ovelo Dai Giù Giù Vai Vai ancora Così Alterno Da un lato E dall'altro Vai Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Ok Rimani Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Due Da capo Vai Vai O ancora Ancora Quattro Tre Due E Rimango Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E vai Giù Ok Respiro Stai Ragazzi fate caso Guarda qua Lavori Giardinieri È un disastro A quest'ora Vai C'è conduzione delle ante Mani sulle ginocchia Possibilmente via I riuniti Come state? Come è andata? Io so stanca Raga Cambio Ancora non è arrivata La pesana Stranamente Destra Al petto Sinistra Giù Apro il braccio Spingi i ginocchi Si guarda la mano Eccola Lo sapevo Non mi si Torno Allora Poggia il malleolo sul ginocchio Su Mani dentro Tira La fa strecci Non prodo No, 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 no E doi Ok Cambio Gamba sinistra al petto Apro il braccio Scendo Doi Basta La fa la doccia Torno E vai Malleolo sul ginocchio Mani dentro Tiro Allora E basta Non serve Non serve Non serve Le teste leccate Buona Ok Va bene Gambio dietro Stai Resta Allunga Scendo Scendo Ergo su Aurora Vantare Avanti Avanti Andro Ma Rilassa la testa Ok Ok Destra dietro Scendo Ok Vi dico solo Che io sto Stomaco vuoto Vai Cambio Ok Per bruciare Qualche Qualche Caloria Di troppo Assimilata Nei giorni Precedenti Io sono Allenata Stomaco vuoto Solo acqua Raga Ce la potete Fare pure Voi Torno Salgo Stendo La Pesta Morbide Le ginocchia Srotolo Vai Ok Avete Srotolato Circonduzione Delle spalle Vai Giro Wow Cambio Giro Avanti Mi raccomando Bevete Braccio Destro Tiro Lascia Portalo Su E Alluga E Fate Stretching Torna Già il mio Stretching È abbastanza Blando Però Fatelo Vai Vai Su Ok Lasciate Testa Giro Intero E Cambio Giro Sulle braccia Respiriamo Moliamo tutto Grazie 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 B A B Grazie.